Questo programma è offerto da... Caro Ivo, certo che questa villa tropia è davvero bellissima. Ma non hai visto niente? Tu la devi vedere qua quando fanno i banchetti, i matrimoni, i compleanni. È una cosa veramente allucinante, anche se oggi per me è una giornata tristissima, Rosario. Cosa è successo? Che è successo? Eh, ieri abbiamo sepolto a mia suocere. Mi dispiace veramente, ma quando è morta? Probabilmente stamattina.